Si chiama Richard Wallach ed è un uomo che si doveva prendere cura dell'ammata moglie di Roma e Valerie ma ha lasciato che le condizioni di salute andassero a peggiorare quando così i sanitari sono entrati nella casa di lui e di lei a Liverpool sono trovati davanti a una scena davvero devastante infatti hanno trovato la donna trovata coperta di verni sulla poltrona di casa la donna vi ricordo che è una malata terminale una scena davvero brutta triste la donna era intrisa dalle sue stesse feci della sua urina il corpo devastato di piaghe sulle quali erano presenti anche i verni e intorno a lei continuamente non usavano delle mosche era malata di cancro la donna onomatia non diagnosticata trascurata che le impediva di fatto di essere indipendente era stata affidata alle amorevoli cure del marito amorevoli direi proprio no in quanto non si è fatto vedere solo dopo l'uomo che da ben 15 anni condivideva la vita insieme a lei ma Richard l'avrebbe abbandonata a se stessa facendo in modo che si riducesse in condizioni davvero al limite della sopravvivenza al limite della dignità e sta a portare in ospedale Valeri dove però purtroppo è morta dopo 20 giorni a 60 anni di età era ancora giovane vi ringrazio per l'ascolto vi ringrazio a cresire per la visione di questo video di oggi datemi le vostre opinioni Valeri riposi in pace Amen e al prossimo video